Domenico Grandini, presidente regionale dell'anno migratoristi in Lombardia. Il problema delle deroghe si ripete anche quest'anno. Dopo il no di Ispra, sembra che la regione Lombardia non voglia intervenire sull'argomento. Qual è la vostra posizione? La vostra posizione è quella, inizialmente, di un grosso appoggio all'assessore Rolfi, al quale noi dal mese di maggio, allegando anche ai nostri iscritti, che sono la bellezza di una quindicina di lettere, anche tutte le motivazioni e i documenti Ispra e le dichiarazioni che Ispra va continuamente a fare in contraddizione da una regione all'altra, questo supporto qui è finito purtroppo in una delusione che è terminata. Con questa delibera sul prelievo agricolo dello Storno, che non serve a niente, perché non è caccia quando noi dobbiamo usare i dissuasori, non poter usare richiami, non usare stampi, non usare girandole ed essere all'interno dei 500 metri dai fruttetti, insomma non girando. Lo Storno deve essere dato in deroga, però di poterlo cacciare anche senza limiti di distanza, perché anche se siamo a 3 km al frutteto, lo Storno, i danni, e nel motivo principale per il quale lo vogliamo anche prelevare, i danni li fa, perché va a mangiare frutta dove poi lo trova. L'assessore Rolfi ha fatto questo, ma noi chiediamo che faccia la delibera per Storno, Fringuello, Peppola come prelievo e le catture per quello che la legge prevede, per Gioi Tordi, Sasselli, Merlo e la Cesena, oltre che la Pavoncella, il Colombaccio e la Lodola, però su questi potremmo anche fare un discorso a parte e rinunciare. Una delibera di giunta che potrebbe essere impugnata. Sì, però ci sono l'AC e i CABS che vanno a scrivere delle sciocchezze alla quale l'assessore Rolfi assolutamente non può credere. Mettete la mano al portafoglio a tutti quelli che appoggeranno una delibera. Non è assolutamente vero. Se l'assessore Rolfi ha la volontà politica di provvedere a fare le delibere non rischia né lui, né i componenti della giunta, niente. Dico niente perché se la fa immediatamente, certo non può aspettare il mese di far passare il mese di agosto, se la fa subito ci sarà un ricorso al TAR. Il governo ha 60 giorni per intervenire sulle delibere qualora non gli vadano bene. Allora, se il TAR dà ragione a Rolfi è tranquillo, se il governo non interviene è tranquillo, se il TAR dovesse dar torto di prelievi non se ne fanno perché il tempo per avere questa sentenza è precedente all'inizio delle delibere. E allora, se non si applica il problema, e noi però offremmo un grosso punto a favore, che sul ricorso al TAR ci potremmo appoggiare a difendere la regione con i nostri avvocati, e questo Rolfi lo sa, perciò diciamo che il problema non esiste. Qui ci vuole solo la volontà politica per affrontare il problema. In questo momento mi sembra che manchi e su questo abbiamo anche chiesto un incontro che venerdì prossimo avremo con Rolfi, noi siamo d'accordo. Ecco, c'è un'altra questione, Domenico, che è quella relativa al tesserino venatorio, alla consegna del tesserino. Sì, il tesserino purtroppo, abbiamo una legge che dice può essere spedito alla residenza del cacciatore, anche per quest'anno non lo avviene, è promesso per l'anno prossimo, però in questa consegna anche con delega o da parte dei comuni o da parte dell'UTR c'è una norma che dice che chi è delegato a ritirare il tesserino deve recarsi, dove il tesserino si trova, col porto d'armi originale in mano. Assolutamente è una cosa inconcepibile, dover andare con 30, 40, 50 deleghe con altrettanti porto d'armi in originale. Io, se vengo delegato, e la dottoressa Gennari dell'UTR di Bresca, che con Zanardelli abbiamo incontrato, è anche d'accordo, ci rendiamo responsabili qualora l'interessato non sia in possesso, perché magari è sospeso o revocato dal porto d'armi, però ho anche precisato che se uno è senza porto d'armi e vuole andare a caccia lo stesso, il tesserino non gli interessa per niente. Questo sia almeno chiaro, non penso che questo l'abbia inventato l'assessore Rolfi, però c'è qualcuno del suo ufficio che evidentemente pensano a queste cose. Stiamo però assistendo a una questione che nemmeno in Veneto, in Liguria e in altre regioni si attiva il prelievo in deroga. Questa è una cosa comune a chi fa queste cacce tradizionali? Diciamo che da notizie ultime che adesso stiamo affrontando e anche all'assessore Rolfi abbiamo già mandato una lettera l'altro ieri, in Commissione Europea c'è commissari che dicono che Tordo, Sassello, Cesena, Merro e quelli previsti, siccome rientrano nelle specie cacciabili, non c'è neanche bisogno di farlo in deroga. Perciò scavalchiamo tutto quel punto qui, l'importante è che in una maniera o nell'altra ci sia la volontà di fare delibere, non possiamo attendere oltre.